ciao ragazzi benvenuti sul canale gim giri moto oggi faremo un unboxing che in realtà un unboxing non è dell'interfono della sina lsf4 devo dire che questo interfono rispetto ad altri che ho potuto testare è uno tra i più leggeri in commercio le sue caratteristiche principali che possono interessare maggiormente sono la possibilità di collegare più di un dispositivo in modalità stereo la possibilità di essere ricaricato in viaggio quindi utilizziamo l'interfono e nel frattempo lo possiamo caricare attraverso una power bank e la possibilità di comunicare con altri telefoni fino a una distanza di un chilometro e due ma andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro la scatola qui abbiamo il braccetto del microfono per il casco modulare questa è la nostra centralina qui abbiamo una pocket guide per iniziare da subito a utilizzare il nostro interfono la garanzia libretto di garanzia e qui in questo sacchetto abbiamo quelli che sono tutti gli accessori che ci vengono dati in dotazione quindi questo per esempio e sono gli speaker per il suono hd qui abbiamo poi la l'aggancio della centralina che poi si appora ovviamente sul casco qui abbiamo il microfono che si mette nel casco integrale vedete al filo poi abbiamo un'altra coppia di speaker che sono quelli diciamo così normali quindi non con l'hd definition e poi abbiamo la piastra che si attacca attraverso l'adesivo e un set di adesivi per l'installazione sul casco e poi la cuffietta da porre sul microfono per attenuare quello che può essere il fruscio del vento poi abbiamo il cavo usb che serve per collegare la centralina al computer per effettuare gli aggiornamenti e adesso andiamo a vedere più nel dettaglio come è fatta questa centralina innanzitutto bisogna dire che il peso sia della centralina che della sua base il totale siamo intorno ai 75 grammi solo la centralina pesa circa 30 35 diciamo che questo è un punto suo favore in quanto gli altri interfoni hanno dei pesi molto più importanti si parla di oltre 100 grammi come si aggancia niente di più semplice in corrispondenza dei contatti andiamo a posizionare la centralina in questo modo e andiamo a cliccare fino a sentire questo click per sganciare il corpo della centralina alla base basta spingere questa linguetta in avanti e sganceremo il corpo della centralina a un certo punto qualcuno potrebbe dire questo click mi mette l'ansia penso di aver rotto qualcosa niente di più semplice da fare che andare a posizionare la centralina sulla base spingere in avanti la linguetta e in automatico la centralina prende posizione e rimane ben salda come potete vedere dicevo le dimensioni sono contenute qui abbiamo lo sportellino della porta usb per andare a effettuare aggiornamenti firmware che una volta finito andando a pigiare leggermente sul gommino di protezione ritorna nella sua posizione in tutta tranquillità quindi non abbiamo il problema di avere una linguetta che magari non va a coprire come dovrebbe la porta usb e quindi in caso di pioggia non andiamo a rischiare di andare a rompere l'interfono cosa mi piace di questo interfono beh innanzitutto i tasti come potete vedere sono belli grandi questa parte concava ci aiuta quando utilizziamo i guanti a capire a che altezza ci troviamo quindi a capire a quale tasto stiamo andando a cliccare l'altra cosa che mi piace molto di questo interfono e che si può collegare alla ricarica anche mentre lo stiamo utilizzando quindi lo colleghiamo a un power bank si ricarica e nel frattempo che si ricarica possiamo continuare ad utilizzare tutte le sue funzioni cosa che altre interfono non hanno la durata non sto ad elencarvi tutte le caratteristiche tecniche perché la maggior parte sono le più comuni presenti sul mercato quello che c'è da dire è che ha la possibilità di collegare due dispositivi in modalità stereo possiamo collegare due telefoni oppure possiamo collegare un telefono e un navigatore gps in modalità stereo perché lo riferisco perché in realtà questa possibilità dei due canali stereo solitamente si hanno con dispositivi di una fascia alta questo fa parte di una fascia media ed è l'unico che ci permette di avere due canali stereo quindi se vogliamo collegare il navigatore gps che ha la funzionalità di bridging cioè la funzionalità di connettere il telefono al navigatore e di poter effettuare o ricevere chiamate e ascoltare la musica dal gps ecco che nel momento in cui usciamo senza navigatore e abbiamo associato il telefono potremmo ricevere sia le chiamate che ascoltare la musica dal nostro telefono qualora invece usciremo sia con il telefono che col navigatore andando a disattivare la connessione bluetooth dal telefono verso l'interfono potremmo utilizzare il nostro gps come stazione multimediale per ricevere chiamate ascoltare musica questo non era possibile farlo con altri interfoni che avevano un solo canale stereo e per poter utilizzare il dispositivo in modalità stereo dovevi sostanzialmente andare a sovrascrivere l'associazione e ogni volta dovrei rieffettuare una nuova associazione capite che nel momento in cui io esco e senza navigatore e voglio ascoltarmi la musica e ricevere le chiamate sul telefono dovrei rieffettuare una nuova associazione e la cosa insomma a me personalmente mi scocciava parecchio detto è che posso utilizzare entrambi i dispositivi telefono e navigatore con la funzionalità multimediale associando al telefono il canale mono che non mi permette di ascoltare la musica dal telefono ma mi permette solamente di andare a ricevere le chiamate ma se io ho già utilizzo il navigatore gps per poter ricevere chiamate questa è una funzione che a me non mi interessava diversamente se voi avete un navigatore che non gestisce le chiamate del telefono tantomeno gestisce la musica beh allora vi fa poca differenza in quanto avreste collegato il navigatore gps al canale mono per le sole istruzioni e al canale stereo il vostro telefono sia per ricevere le chiamate che per ascoltare la musica altra particolarità rispetto ad altri è il raggio d'azione abbiamo un campo aperto a un raggio di copertura di un chilometro e due altra cosa che io onestamente per ignoranza ho sempre trascurato e ho capito in maniera diciamo così diversa e che quando dicono che si possono collegare fino a quattro interfoni beh quattro interfoni della stessa marca se invece io voglio collegarmi a altri tre interfoni di marche diverse beh sia con questo che con altri non è possibile posso collegarmi solamente con un interfono che si è diverso da quello sfina se volessi collegarmi a altri due interfoni di marca differente dovrai avere un altro compagno che ha lo stesso interfonosina dove io mi collego con un dispositivo lui si collega con un altro dispositivo non sina e a quel punto unire la conferenza dei due e sina per poter ascoltare anche le altre due persone ad avere una conference di quattro se il video ti è piaciuto mettici un like iscriviti al canale se non è fatto attiva la campanella per ricevere le notifiche di altri video che andremo a fare ma soprattutto scrivi nei commenti scrivere commenti se vuoi avere informazioni più dettagliate se magari hai anche tu questo modello e hai delle difficoltà nel suo utilizzo o in qualche funzionalità grazie mille ci vediamo alla prossima ciao